Ci è capitato poche volte in questa sagione, contro un avversario veramente forte, contro una diretta concorrente, soprattutto poi il giorno di Natale, passeremo un Natale molto più felici. Che partita è stata? Due volte avanti, due volte ripresi e poi il guizzo finale? Come l'hai visto? Io credo sia stata una bella partita, comunque sapevamo affrontare una squadra forte sia tecnicamente che fisicamente. Siamo stati bravi comunque a rimettere in te la partita per due volte, anche se nel primo gol la palla si è scelta fuori durante il calcio d'anno. Però poi credo che ci ha messo anche in più l'ottanta situazione. Tre punti che valgono doppio? Sì, sì, valgono doppio. È inutile nasconderlo, era quello che volevamo appunto per attaccare il Natale. Com'è stato il duello con l'ex Cipisani? No, 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 no. Grazie. Grazie.